Bella bella ragazzuoli, in carico leggendario settimana 7, season 7, raccogli libri per noi genitori da Viva Via Verdeggianto a Corso Commercio ci troviamo ragazzi a Corso Commercio, questa è la posizione esatta del primo libro ragazzi quindi entriamo dentro la casa azzurra e qui sulla sinistra, proprio qui, troviamo il primo libro passiamo al secondo ragazzi, ci dirigiamo dritto per dritto, questo recinto qua ecco in questa posizione troviamo il secondo adesso passiamo al terzo quindi usciamo di qua ragazzi andiamo verso questa casa qui ok una volta entrati, giriamo sulla destra e qui troveremo il terzo libro ragazzi come sempre spero che il video vi sia stato utile, bella bella grazie a tutti